A Chieti non erano più abituati a gestire sconfitte. Novi risultati utili consecutivi che avevano lanciato in piena zona playoff la squadra. Poi lo stop di Prato, giunto al termine di una gara non giocata ai livelli abituali. Poco è cambiato in termini di classifica. I neroverdi restano quinti e l'obiettivo playoff è alla portata. No, l'umore è quello giusto. Aspettiamo già domenica per cercare di recuperare. Dobbiamo pensare solo a domenica, ormai quello che è andato è andato. Della prestazione in terra toscana non è piaciuto essenzialmente l'approccio al match. Anche Vitone ne è convinto. Sicuramente è un po' l'approccio alla partita, forse abbiamo sbagliato. Però dopo il gol abbiamo cercato di recuperare in tutti i modi. Non possiamo stare sfortunati e loro comunque erano una buonissima squadra. Sarà un caso, ma con l'infortunio di Amadio, compagno di reparto di Vitone, qualcosa si è inceppato nella costruzione della manovra. Amadio è un giocatore importantissimo per il Chiedi, però penso che Cardinali ha fatto una buonissima gara. Non penso sia stato per l'assenza di Stefano, anche se per noi è importantissimo. Arrivano spesso i gol degli esterni, non quelli degli attaccanti. Aspettiamo anche qualche tua punizione. Io spero di farla subito, però noi dobbiamo continuare così, cercando di giocare bene, sperando con un po' di fortuna, ma soprattutto con le caratteristiche nostre, con il gioco nostro, che ce la potremo fare. A primavera, lo scorso anno, il Chiedi sbocciò definitivamente. Vitone è convinto che l'Exploit si possa ripetere. Ma adesso mancano quattro partite, tutte dobbiamo fare più punti possibili. Sicuramente ce la metteremo tutta e per cercare di arrivare nei play-off dobbiamo vincere per forza domenica. Play-off che il Chiedi li merita? Io penso proprio che sia dall'inizio dell'anno che stiamo lì e noi li vogliamo a tutti i costi.